ciao volevo discutere oggi un pochino dei righelli di clip studio o perlomeno mostrare come li uso io principalmente utilizzo il righello prospettico che è questo perspective ruler normalmente lo strumento di disegno può oppure no essere legato ad un righello quindi normalmente disegno e disegno come voglio però posso decidere di appunto bloccare il disegno su alcuni righelli queste iconcine qua sopra gli snap che sono disponibili anche nel menu view qua sotto snap to ruler to special ruler to grid per esempio se io attivo lo snap to grid e ovviamente mostro la griglia che in questo momento non si vede quindi faccio show grid adesso con lo snap to grid vedete il mio disegno è bloccato sugli elementi della griglia quindi se lo disattivo disegno come voglio se lo attivo lo blocco sulla griglia quindi bisogna tenere a mente due cose deve essere visibile l'oggetto su cui fare snap quindi avete visto la griglia quando non c'era anche se attivo lo snap to grid non funziona e nello stesso tempo bisogna attivare lo snap in questione quindi in questo momento per esempio attivo uno snap to ruler ma non c'è alcun righello e quindi non fa niente se io vado nella sezione dei righelli e creo per esempio un righello lineare il righello linear ruler che è il più semplice è praticamente una stecca tiro una riga sul sul disegno e tra l'altro notate che me l'ha creata come figlia di questo livello questo non sempre è quello che voglio questa opzione anzi è molto scomodo perché in genere su uno stesso livello io ci faccio più vignette quindi non vorrei avere dei righelli legati al livello in questione perché magari nella vignetta sotto qua giù ne vorrei fare degli altri quindi annullo quello che ho appena fatto e c'è questa spunta create editing layer se voi la togliete e tracciate un righello il righello viene creato qua giù come un righello nuovo e io infatti in genere faccio così vedete per esempio adesso questo lo butto un attimo nel cestino vedete per esempio questo v1 è il righello che ho utilizzato su questa prima vignetta dove sto ancora disegnando comunque queste sono le matite e questo è il righello della prima vignetta è un righello prospettico adesso lo vediamo comunque è legato l'ho chiamato v1 ed è legato alla prima vignetta quando non mi serve più lo disattivo e lo lascio da parte e proseguo con altri righelli quindi allora come dicevo linea ruler se ne traccio uno per esempio qui adesso riprendo di nuovo il pennino quando disegno solo nel momento in cui passo vicino al righello viene bloccato sul righello in questione ma se vado qua giù faccio quello che voglio quindi anche qua giù vedete non succede niente solo quando sto sul righello in questione quindi il righello lineare diciamo è molto limitato alla fin fine io faccio tutto col righello prospettico quindi per esempio se devo fare questa scena scelgo perspective ruler che è il righello prospettico ho qui il tavolo che è l'elemento più grosso e più comodo da seguire e allora come come procedo prima di tutto comincio col primo punto di fuga il primo punto di fuga adesso non è che posso fare una lezione di prospettiva comunque tutte le linee che sono parallele nella realtà vanno verso lo stesso punto di fuga quindi nel caso di questo tavolo due righe parallele sono queste sono parallele anche alle righe del muro alle righe dei mobili ovviamente scegliete due righe che non siano troppo vicine tra loro possibilmente una al di sopra e una al di sotto della vostra linea dell'orizzonte così siete più sicuri che si incrocino meglio per esempio traccio questa riga e poi prendo quella di questo mobile qua che è comunque parallela la disegno lì già mettendo le prime due righe cosa è successo siccome appunto non ho created editing layer ho subito un righello prospettico nuovo che è già qui ed è molto comodo e mi trovo già su questo livello selezionato quindi per esempio lo posso già chiamare v3 per dire che sto sulla vignetta 3 e vedete che mi ha creato una linea dell'orizzonte che è questa qui azzurra e questo è il mio punto di fuga quindi se la linea dell'orizzonte è quassù la linea dell'orizzonte rappresenta gli occhi di chi guarda la scena quindi mi trovo giustamente al di sopra ora che faccio se io trascino altre due righe per esempio circa queste vanno incrociarsi vedete in un posto diverso qua giù cosa è successo quindi che la mia riga dell'orizzonte quella azzurra si è inclinata non è più orizzontale questa è una cosa strana nel senso la maggior parte delle volte non vogliamo una linea dell'orizzonte inclinata a meno che non cerchiamo degli effetti particolari quindi cosa faccio io di solito per essere sicuro di non creare una riga dell'orizzonte inclinata per non doverla adesso raddrizzare perché adesso per raddrizzarla dovrei prendere usando il tasto control posso cliccare su una riga appaiono questi segni col segno in mezzo posso spostare facilmente la riga senza cambiare alcunché in pratica mi serve solo spostare questi due maniglie in un posto più comodo invece i puntini azzurri spostano il punto di fuga quindi se io qua il puntino azzurro lo sposto così ecco che il mio punto di fuga in alto si allontana e la riga azzurra dell'orizzonte si è un po raddrizzata il punto di fuga è qua è molto scomodo procedere così per raddrizzare la linea dell'orizzonte c'è un'opzione che è cliccare sempre col control su una qualsiasi dei momenti non serve proprio sulla riga dell'orizzonte anche su uno qualsiasi di questi sto tenendo premuto il tasto control premo il tasto destro e posso scegliere horizontalize eye level questo non fa altro che portare il livello dell'orizzonte la riga azzurra orizzontale appunto lo blocca ovviamente che succede che non rispetta più in questo caso mi è andata abbastanza bene le due righe corrispondono abbastanza a dove erano nel mio disegno però per il fatto di aver raddrizzato a volte non va a finire nel posto giusto allora come faccio di solito butto via e ricomincio tanto per farvi vedere di solito procedo creando il primo punto di fuga e va bene a questo punto creato il primo punto di fuga verifico se la riga dell'orizzonte è più o meno dove la voglio se sì come faccio allora per non storcerla mettendo il secondo punto di fuga vado a mettere uso la capacità di snap che c'è per tirare intanto due righe a caso che vadano incrociarsi sulla riga dell'orizzonte quindi questa poi vedete qui c'è l'incrocio con la riga dell'orizzonte ne tiro un'altra e tac vedete fa snap da solo quando finisce nel posto giusto ora che ho queste due righe e sono fissate giuste la riga dell'orizzonte è orizzontale primo control seleziono tasto destro e scelgo fix eye level in questo modo adesso il livello dell'orizzonte è fissato e se io sposto queste righe vedete il punto sulla riga dell'orizzonte si sposta ma non la cambia quindi cambiano le due righe del punto di fuga vedete si muovono ma rimangono attaccate all'orizzonte quindi è comodissimo adesso andare a cercare la posizione nuova adesso che ho i due punti di fuga rimango sempre su questo livello selezionato se per sbaglio vi siete spostati da un'altra parte come su questo livello e avete anche fatto qualsiasi altra cosa nel frattempo adesso tra l'altro vedete che lo snap è già attivo tra questo un attimo lo vediamo tra un attimo comunque se mi sono spostato da un'altra parte a fare qualcosa e voglio andare a modificare questo premendo control posso sempre tornare a modificare queste linee poi appena lo vedete che mi seleziona questo livello appena lo mollo torno sul livello precedente quindi se come in questo caso voglio aggiungere un terzo punto di fuga prima di tutto mi sposto sul livello con righello così sono sicuro di lavorarci riprendo di nuovo lo strumento righello e posso andare ad aggiungere il punto di fuga adesso quindi per esempio quello dell'asse z quindi traccio questo e questo sto andando un po ad occhio e ho messo un punto di fuga al posto giusto ecco adesso il lavoro è finito nel senso questo righello è funzionante è bloccato lo dovete lasciare visibile vi spostate dove volete disegnare e adesso il il righello sarà attivo e potete tranquillamente disegnare se per sbaglio lo snap non è attivo ricordatevi che è quest'icona qua snap to special ruler perché quello prospettico è un livello di tipo special quindi se la tolgo disegno come voglio se lo rimetto sono bloccato nelle direzioni che ho deciso per il mio punto di fuga io ho associato la scorciatoia snap to special ruler e ctrl 2 per cui in qualsiasi momento premendo ctrl 2 ctrl 2 passo da una modalità in cui disegno con la prospettiva una in cui disegno a mano libera l'ho anche associato a questo ctrl 2 a uno dei miei tasti del tastierino rapido fisico che mi tengo a parte in questo modo proprio solo un pulsante che premo e ripremo e passo immediatamente da prospettiva non prospettiva quando avete finito con una vignetta è sufficiente togliere la visibilità al livello del righello e tra l'altro vedete togliendo la visibilità righello anche se lo snap è attivo non funziona più rimetto la visibilità rimane attivo quindi se ne volete fare un altro io quello che faccio è disattivare questo mi sposto su un altro livello e ne faccio un altro uso sempre il prospettico anche se devo fare vedete questa scena per esempio tutte e due potrebbero avere un punto di fuga singolo e il prospettico va benissimo anche per fare il singolo se mi metto qua infatti incrocio semplicemente due righe nel punto in cui voglio ecco qua il mio orizzonte sono incrociate basta fine ci faccio ctrl click tasto destro fix high level e in questo momento ho quest'altro righello lo metto lì e ho quest'altro righello che lo chiamo v4 e posso mettermi quindi a disegnare utilizzando questo livello avendo un unico punto di fuga sono tranquillo che ho anche le righe orizzontali e verticali ovviamente nella parte più vicina al punto di fuga è un po più difficile essere sicuri di fare una riga verticale o una che va al punto di fuga provateci in pratica basta sforzarsi beh se voi vi sforzate se siete a sinistra del punto di fuga sforzate verso destra rimane verticale se sforzate verso sinistra va verso il punto di fuga e viceversa se sono a destra e sforzo verso sinistra va verso il punto di fuga se sono invece se sto spostando la mia mano verso destra rimane verticale quindi se avete bisogno per esempio solo di righe orizzontali e verticali io non sto a perdere tempo con altri righelli faccio un livello un righello prospettico con un unico punto di fuga e poi procedo con normali orizzontali e verticali tra l'altro questi livelli li potete anche facilmente come fossero livelli qualsiasi per esempio adesso posso trascinarlo su nuovo ne ho creato un duplicato e posso con lo strumento sposta posso tranquillamente spostarlo in un altro posto per un'altra vignetta diventa quello della vignetta 5 e quindi non perdo tempo a rifarlo e posso avere un punto di fuga diverso nell'altra vignetta e quindi alla fin fine uso un unico tipo di righello il righello prospettico perché mi permette di avere facilmente anche le righe orizzontali e verticali può capitare di volere una particolare prospettiva in cui si vuole un punto di fuga verticale cerco di essere più chiaro con un esempio facciamo finta di voler appunto realizzare una situazione di questo tipo nella quale ho un punto di fuga però visto dall'alto quindi per esempio ho una situazione in cui le righe orizzontali restano orizzontali qua per esempio c'è una porta e la scena è vista dall'alto ma con tutte le righe orizzontali che restano orizzontali questa è una scena nella quale ci sono due punti di fuga cioè il punto di fuga normale centrale solo che il punto di fuga è uno per gli elementi orizzontali e mentre invece è un altro per gli elementi verticali quindi c'è un asse z diciamo che incrocia per fare questo che è un caso abbastanza particolare io faccio uso sempre questa caratteristica del degli snap allora prendo un righello prospettico trascino il primo punto di fuga quello principale diciamo è chiaramente nel posto sbagliato adesso perché se io sono quassù non posso essere lì di solito è in queste situazioni è fuori dalla vignetta quindi prendo questo manipolatore che è il manipolatore dell'intera riga dell'orizzonte e lo porto più su evidentemente nel mio disegno a mano l'ho disegnato un po malamente comunque insomma metto il punto l'orizzonte nel posto giusto adesso dovrei se io traccio subito altre due righe che succede che mi gira tutto l'orizzonte e diventano schifo quindi annullo ho bisogno di un punto di fuga che è tipo quello di una prospettiva a due punti quindi di nuovo lo creo usando lo snap in un posto a caso adesso fisso come facevo prima fix high level così so che non si sposta all'orizzonte e che faccio mi metto lontano tipo qua sul bordo della vignetta e orizzontalizzo questa linea addirittura se usate lo shift insieme al control ecco con lo shift si blocca in orizzontale cosa ho fatto ho mandato all'infinito questo punto di fuga quindi adesso è come se avesse una prospettiva a due punti ma con un punto di fuga all'infinito e quindi posso fare le righe orizzontali delle piastrelle ora se vado a tracciare il terzo punto di fuga è quello delle righe verticali e posso metterlo come voglio ed ecco qui che la scena l'ho fatta e posso facilmente andare a disegnare quello che volevo disegnare come i punti di fuga corretti quindi è un trucco diciamo nel quale una prospettiva a due punti viene falsata mettendo un punto all'infinito e in questo modo il riesco a mettere comunque il terzo punto di fuga anche avendo il in pratica mettendo un secondo punto di fuga fittizio quindi questo è quanto poi ci sono anche degli altri righelli ovviamente ce ne ce ne mille diciamo che quello prospettico è quello più utile quando si disegna poi è chiaro che se che uno per esempio che è particolarmente utile è quello quello delle righe parallele per esempio quindi andate su special ruler parallel line in questo caso se traccio anche qua io tiro sempre via created editing layer traccio una riga parallela e una riga diciamo e tutto quello che disegnerò adesso dovevo riprendere a ecco questa è un'altra cosa che volevo dire se voi create più di un righello adesso ce ne visibili due vedete che uno è viola e uno è verde quello viola è quello buono quello che viene usato quindi se prendo la mia matita della mia penna adesso tutte queste righe sono parallele a quello viola quello verde è visibile perché c'è l'occhietto se lo tiro via però vedete che rimane verde anche se perché ormai diciamo creandone due per forza deve esserci solo uno attivo come cambio quello attivo per cambiare quello attivo l'opzione è change special ruler snap control 4 io utilizzo la scorciatoia di solito quindi se sono qui premo control 4 e diventa viola e quindi funzionante questo qua giù questo può capitare quindi se io per sbaglio ho visibile quello della prima vignetta e quello della vignetta 3 e premo control 4 adesso quello ero su v1 e quindi questo diventa visibile e posso usare questo l'altro è verde se lo voglio usare devo anche se io nascondo quello di v1 vedete che rimane verde rimane verde e mi sembra di non poterlo usare anche se lo snap perché non è attivo basta solo premere control 4 quando ci si trova sopra e disegnare un'altra accortezza che vi dico è che i livelli di righello sono comunque disegnabili quindi a volte mi capita di trovarmi su questo livello cominciare a disegnare e accidenti ho fatto il disegno sul vedete è il livello del righello non dovrei poterci disegnare purtroppo si può e quindi se per sbaglio vi è capitato niente di grave potete semplicemente selezionare ah sì vedete che anche la selezione si blocca sul righello in questo caso cosa faccio disabilito lo snap nel momento in cui seleziono fate una selezione scegliete taglia potete spostarla su e potete appiattire con control e e avete spostato l'inchiostro quando faccio taglia in pratica su un livello con righello si porta via solo il disegno da quelli il righello e quindi se per sbaglio avete disegnato sul livello del righello potete facilmente portar via da lì e metterlo sui sui livelli di disegno insomma niente come vi dicevo io appunto per evitare problemi di questo tipo faccio sempre disabilito l'occhietto al livello al righello che ho fatto e creo quello nuovo così non ne ho mai più di uno visibile se capita ricordatevi control 4 altri regali utili li trovate qua insomma c'è parallel line parallel curve radial curve abbastanza utile perché è una curva radiale e quindi vi permette di creare per esempio delle linee di delle linee di movimento curve che vanno tutte verso un unico punto e quindi può essere particolarmente utile comunque esplorate pure tutti quanti ricordatevi che questi sono appunto righelli di tipo special e quindi richiedono questo tipo di snap snap to special ruler niente poi ci sono tutti gli altri insomma esplorateli però il funzionamento è questo ecco bisogna avere il righello visibile possibilmente vi consiglio di fare un layer apposta per il righello e bisogna avere lo snap attivato se avete cambiato righello attivo per sbaglio control 4 o comunque view change special ruler snap lo porta su quello che state vedendo in questo momento e appunto ricordatevi che quando mettete il secondo punto di fuga in un righello prospettico il secondo punto di fuga va a determinare la direzione dell'orizzonte quindi se lo incrocio così l'orizzonte si gira se volete evitare questo incrociatelo sull'orizzonte prima che fa snap control click tasto destro fix eye level e da questo momento in poi potete manipolare senza spostare l'orizzonte questa è una cosa utilissima spero scusate se l'ho fatta un po lunga per questa cosa però sono in tanti di solito che non riescono a usare i righelli questo è il mio modo di usarli spero possa essere stato utile vi ringrazio e alla prossima ciao ciao